Gian Marco ha subito un trauma contusivo distorsivo ginocchio caviglia e quindi è in via di miglioramento vediamo se riusciamo a recuperarlo per la partita di domenica oppure destinato ad aspettare i prossimi incontri chiaro che avendo ancora qualche giorno a disposizione proveremo a fare di tutto perché sia della partita altrimenti ci saranno altri che potranno sostituirlo in modo egregio è una squadra che l'anno scorso ha fatto il più alto minutaggio del girone C ed è arrivata a ridosso dei playoff facendo una parte centrale molto importante a livello di risultati e di prestazioni ha mancato per poco i playoff e quest'anno ha mantenuto la stessa ossatura praticamente con uno o due inserimenti è una squadra di buona gamba, di buona fisicità quindi oltre agli aspetti tecnici ti può mettere in difficoltà sulle corse, sulle ripartenze e sulle palle inattive ecco perché poi non sono sorpreso anche se ho visto la partita e comunque il Foggia ha fatto la partita le ha avute le opportunità ma forse prende ancora più valore il risultato da parte del Latina perché contro al cospetto di una squadra come il Foggia fare il risultato a Foggia senza dubbio sinonimo di squadra quadrata è molto avanti molto avanti rispetto a tante, a tutte perché ha un rodaggio che deriva da un lavoro di un anno quello che ho chiesto alla squadra è quella di essere umile in prima battuta sicura sicuramente dei propri mezzi ma con l'umiltà della squadra che si deve salvare non credo che a prescindere ci sia una partita offensiva da una parte e prettamente difensiva dall'altra basandosi solo sulle transizioni, io credo che dipenderà da chi riesce ad avere il dominio del centro campo e da lì poi le dinamiche cambieranno non sto pensando al turno infrasettimanale, io credo che penso, cioè che in questo momento esatto, non sia nelle facoltà di un allenatore poter pensare a una partita che avverrà fra tre giorni dobbiamo pensare una partita alla volta e evitare di pensare a quello che verrà dopo perché è quello più importante, quello che accade oggi o domani, non fra quattro giorni In questo momento noi abbiamo bisogno, perché siamo solo all'inizio, siamo solo alla prima ancora di conoscere chi siamo e in base anche a questa considerazione io credo che ho ribadito più volte che per noi è la prima trasferta alla squadra quindi dobbiamo cercare di avere una forza mentale simile a quella che l'Adriatico ci può dare e non è sempre scontato, quindi anche lì sarà un bel banco di prova per vedere chi siamo